Dottoressa Monaco, al convenio di oggi lei ha anticipato i contenuti di un progetto Teleton sull'individuazione delle malattie più rare tra le rare, quelle che non hanno una diagnosi. A questo punto vorremmo sapere che cosa fa Teleton per facilitarne l'inquadramento e su quali dati potete già contare. Sì, la fondazione Teleton ha avviato da pochissimo tempo, dai primi di aprile, questo nuovo programma che si rivolge proprio a quelle famiglie che hanno un caso di un paziente pediatrico affetto da una malattia genetica così rara e così complessa da non avere ancora ottenuto una diagnosi. Queste sono malattie estremamente neglette che hanno bisogno di essere inquadrate e oggi lo possiamo fare grazie alle nuove tecnologie di sequenziamento al Next Generation Sequencing. Il nostro programma, che è coordinato dal nostro istituto TGEM di Pozzuoli, coordina tre centri clinici nelle tre aree metropolitane principali italiane, quindi l'ospedale di San Gerardo di Monza, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù a Roma e la pediatria dell'Università Federico II a Napoli. Questi centri raccolgono le segnalazioni che derivano direttamente dai pediatri o dai medici e specialisti che hanno in cura questi bambini, che si possono iscrivere sul nostro sito, sottoporre il caso, sottoporre già le evidenze cliniche che sono disponibili. Il team di clinici del programma analizza i casi, in alcuni casi potrà già individuare alcune patologie molto rare e dare già un'indicazione clinica. I casi che sfuggono a questa individuazione andranno poi al sequenziamento del genoma, in particolare dell'esoma, presso l'istituto TGEM. Contiamo, nell'arco di tre anni per questo progetto pilota, di poter affrontare circa 350-400 casi.